Fratelli nel Signore, oggi parleremo di questa esperienza, che è un'esperienza successiva, un'esperienza particolare che è successiva alla nuova nascita. Per quanto riguarda la salvezza, la nuova nascita è sufficiente da sola per far entrare nel regno dei cieli i credenti, perché con la nuova nascita si diventa figlioli dell'Iddio vivente e quindi eredi della vita eterna. E questo è sufficiente, la nuova nascita è sufficiente per la salvezza. Ma la nostra permanenza su questa terra è costellata di molte difficoltà, di molte battaglie, di molti altri contatti con altre persone, più o meno malvagie o con tanti bisogni. Ci sono le guarigioni, ci sono i demoni da cacciare via. Ebbene, a sostegno della nostra vita spirituale, della vita spirituale dei credenti, Dio ha promesso e stabilito questa nuova esperienza, questa esperienza del battesimo con lo Spirito Santo. Questa esperienza non aggiunge nulla alla nuova nascita, sono due cose separate. L'unica cosa che li collega è che il battesimo con lo Spirito Santo lo possono ricevere solo i credenti, cioè non lo possono ricevere i non credenti. Perché? Perché il battesimo con lo Spirito Santo è ricevere potenza per il servizio nella Chiesa. Con il battesimo con lo Spirito Santo ho chiamato anche nelle scritture pienezza dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, ricevere lo Spirito Santo. Questo qui, questa esperienza, con questa esperienza si viene riempiti dalla potenza dello Spirito Santo per rendere un servizio nella Chiesa più efficace, capite? Per raggiungere maggiori risultati, per raggiungere più risultati e con più efficacia. Si viene riempiti della potenza, si viene ripieni dello Spirito Santo, si viene riempiti della potenza. Lo Spirito Santo che viene, diciamo, a riempire questo vaso di terra che siamo noi, lo riempie fino a traboccare. Questo traboccamento si tramuta in un parlare in altre lingue sconosciute. Lo Spirito Santo che si manifesta, si manifesta dicendo appunto, parlando in altre lingue, facendo comprendere che là, in quel vaso, lo Spirito Santo c'è nella sua pienezza. E questo è importante, questo è una promessa, vediamo, adesso partiremo dalla promessa del Dio vivente e vero, quello che Lui ha promesso. Vedremo gli adempimenti della promessa e poi vediamo come è scritto anche che si deve pregare, che la promessa è anche per noi gentili, che si deve pregare il Padre per ricevere questa promessa. Cominciamo da quello che è scritto, che la promessa del Dio vivente e vero c'è scritta anche nei profeti. Noi leggiamo quella lì che c'è scritta, che poi è la più conosciuta perché poi è citata anche nel Nuovo Testamento, in particolare negli Atti degli Apostoli. leggiamo che già il profeta Gioele ha fatto la promessa, cioè ha annunciato da parte di Dio la promessa al suo popolo. Quindi dobbiamo andare a leggere nel profeta Gioele al capitolo 2 dal versetto 28. «E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno. I vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, e anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito». Il resto lo leggeremo poi in Atti per spiegare altre cose. Qui vediamo che in questo passo il profeta ha annunziato, badate bene, qui c'è scritto che io, quindi l'Eterno, spanderà il suo spirito sopra ogni carne. Badate bene, questo «sopra ogni carne» vuole intendere che lo spirito sarà sparso sopra ogni popolo, nazione e tribù. Quindi sono compresi i gentili. Queste parole sono molto importanti da considerare, perché sono parole anche quando si sono avverate, quando si è adempiuta, ha iniziato ad adempiersi la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, c'è stato come una sorta di riforma, di rivoluzione, cioè il battesimo con lo Spirito Santo l'hanno ricevuto anche i gentili. Sì, perché è stato promesso anche per i gentili, non era una promessa valida solo per i giudei, per gli ebrei, ma anche per i gentili. Per i giudei è scritto più avanti, c'è scritto «anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito». Vedete? Quindi c'è anche qui, il profeta praticamente ha annunziato che, badate bene, era una cosa particolare per i giudei, come dire che il Signore non era solo l'iddio di Israele, ma era anche, è anche, era, ed è l'iddio dei gentili. Una cosa che era, diciamo, creava scalpore allora. Comunque, quello che ci interessa a noi in particolare è che la promessa, il Dio l'Eterno fece la sua promessa di spandere il suo spirito sopra ogni carne, sia giudei che gentili. Questo lo promise già ai tempi, quindi, di Gioele, quando parlò per mezzo del profeta Gioele, ci sono anche altri profeti, come il profeta Isaia, che citò, parlò anche di questo. Ma a noi bastava citarne uno, ho voluto citare Gioele, che è il più conosciuto, è quello che ci riguarda maggiormente, che è più vicino a quello che, come ha spiegato Pietro, ha citato proprio le parole del profeta Gioele per spiegare quello che era successo il giorno della Pentecoste. Ma non solo la promessa la fece Gioele. Venne anche una voce che gridava nel deserto. Anche Giovanni Battista annunziò questa promessa. Anche Giovanni Battista era un profeta mandato da Dio. Ebbene, anche Giovanni Battista aveva annunziato la promessa del battesimo con lo Spirito Santo. E andiamo a leggerlo al capitolo 3 del Vangelo di Matteo, dove Giovanni Battista dice queste parole. Capitolo 3, versetto 11. Al versetto 11 il profeta Giovanni Battista dice queste parole. «Ben vi battezzo io in acqua, in vista del ravedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco». Vedete, quindi anche Giovanni Battista, parlando di Gesù, ai discepoli che credevano, che erano battezzati da Giovanni, gli annunziava anche il battesimo con lo Spirito Santo. Il battesimo con lo Spirito Santo che era amministrato da Gesù Cristo. Cioè, chi battezza con lo Spirito Santo è Gesù. Faccio un esempio, i toni spirituali sono distribuiti dallo Spirito Santo, ma i toni di ministerio sono distribuiti da Gesù Cristo. Anche il battesimo con lo Spirito Santo viene amministrato da Gesù, cioè viene dato da Gesù Cristo. Infatti Giovanni Battista qui dice che era Gesù che battezzava con lo Spirito Santo e con il fuoco. E anche lui fece quindi, ricordò, rammentò la promessa, la promessa che Dio aveva fatto sia al suo popolo d'Israele che anche ai gentili. Ma la promessa fu ricordata anche da Gesù. E qui dobbiamo andare a leggere anche il Vangelo di Giovanni. leggiamo, dove Gesù parla appunto del battesimo con lo Spirito Santo. Dal versetto 37, Giovanni 7, versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in pie, esclamò, Se alcuno ha sette, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui. Poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Infatti, il battesimo con lo Spirito Santo ha iniziato a scendere sopra il suo popolo, sopra il popolo, sopra i figlioli dell'Idiotissimo, dopo che Gesù fu glorificato. Infatti, prima di essere glorificato, ancora Gesù ricordò la promessa del Padre. Qui lo leggiamo in Atti, al capitolo 1, leggiamo che lo stesso Gesù, prima di ascendere al Padre, secondo le parole scritte da Lucca, Gesù disse questo. Quindi andiamo al capitolo 1 di Atti e leggiamo al versetto 4. «E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me. Poiché Giovanni Battista si battezzò, sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni». E al versetto 8 dice «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Quindi qui, al versetto 4, Gesù ricorda ai Suoi discepoli che prima di muoversi, prima di compiere l'opera che dopo hanno compiuto, che dopo abbiamo visto, abbiamo conosciuto attraverso le scritture, gli ha detto di aspettare il compimento della promessa del Padre. Perché era importante? Perché, come ha detto al versetto 8, con quella esperienza, con il riempimento della potenza dello Spirito Santo, ricevendo potenza, sarebbero stati in grado di essere testimoni efficaci, perché potenza qui va inteso come la capacità di essere efficaci, cioè di raggiungere maggiori risultati, cosa che magari senza non potevano raggiungere, avrebbero avuto dei risultati di molto inferiori. Quindi è importante, io vi dico queste cose, fratelli, affinché voi desideriate questo dono. Se uno vuole servire Dio, sa che ha bisogno anche di questi doni, di questo dono, e quindi lo deve domandare al Signore, perché è Gesù che battezza con lo Spirito Santo. Non è una cosa che viene dall'uomo, ma è un dono perfetto che viene dall'alto, viene dall'alto. Non bisogna né temerlo, perché purtroppo ci sono quelli che temono questo dono. Il fatto che si parli in altra lingua, in lingue incomprensibili a chi li parla, ma non ci deve spaventare, ma il nostro Dio è grande e potente, il nostro Dio fa girare la terra, fa girare tutto l'universo, fa scorrere l'acqua verso il mare, fa sollevare il mare, lo riabbassa, fa venire il diluvi, fa venire, egli fa quello che vuole, capite? Ora si è stabilito lui di farci parlare in altre lingue, quando saremo, per chi è riempito di Spirito Santo, che meraviglia può fare ciò? Ma il Dio è potente da fare quello che vuole, egli ha stabilito di fare in questa maniera, e noi ci dobbiamo sottomettere alla sua volontà, noi ci dobbiamo sottomettere. Egli ha stabilito così e così dobbiamo desiderare di ricevere, non è che ci possiamo inventare noi le cose, così è scritto e così noi dobbiamo assolutamente credere e domandare, perché uno dice io credo, però se non desideri e non domandi, questo credere cade a terra, cioè il credere, il avere fiducia in Dio, anche in questa promessa, significa che la si deve domandare, ma domandare con intensità però, faccia a terra, desiderandola, chiedendola con insistenza, poi certo il Dio fa come vuole lui, ma noi siamo chiamati a fare in questa maniera, con intensità, con desiderio, bramare, desiderare ardentemente questo dono, perché ci è utile, questo dono è utile per il servizio che bisogna rendere alla Chiesa. Ma voi immaginate quando si sarà perseguitati, se si è riempiti di Spirito Santo, ci sarà una forza maggiore di resistere a tutto quello che ci sarà presentato davanti, perché saremo riempiti della potenza dello Spirito Santo, lo Spirito Santo traboccherà da noi, saremo dei vasi traboccanti, della potenza di Dio. E quindi nessuno ci potrà stare di fronte, come sapienza, come intelligenza, anche come altre cose, come le rivelazioni, come i sogni, le visioni e altri doni che Dio donerà dopo il battesimo con lo Spirito Santo, i suoi doni spirituali. Quindi questa è una promessa importantissima, la più importante dopo la salvezza. Dopo la salvezza, è chiaro che la salvezza è la cosa più importante e non dipende né dal battesimo con lo Spirito Santo e non dipende dai doni, non dipende dai segni, non dipende da nulla. La salvezza è una cosa a sé stante. Ma dopo dobbiamo vivere in mezzo alla Chiesa, dobbiamo vivere in mezzo a questo mondo di tenebre, dobbiamo combattere per la verità, dobbiamo fare la volontà di Dio, con forza e potenza dobbiamo essere efficaci in questo mondo, per questi pochi anni che ci darà Dio di vivere qui, perché in confronto all'eternità, gli anni in che viviamo, ma sono pochissimi, sono nulla. E allora li dobbiamo vivere con la maggiore intensità possibile e con tutti i doni che Dio ha preparato di darci, li dobbiamo almeno desiderare, che poi è Dio che ce li dà e non siamo noi che ce li inventiamo. Non siamo di quelli che devono inventare i doni, e fratelli, non siamo di quelli che si inventano le lingue masciai, masciallai e cacofonie varie, glu 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 o altre robe del genere. Noi siamo di quelli che si inginocchiano davanti a Dio e aspettano il dono potente che viene dall'alto, quello che viene da Dio, quello vero. Noi i fiori falsi non ci interessano, capite? Non mi sono mai piaciuti. A me mi piace la natura vera come Dio l'ha fatta, con i Suoi profumi, con tutto quello che è, con i colori, con i veri colori, con i profumi, capite? Perché le cose artificiali non sono mai come quelle naturali. E nel campo del Signore le cose stanno così. Le cose artificiali non ti portano a nulla, anzi, se uno si è inventato il battesimo con lo Spirito Santo ha cominciato a parlare in altre lingue. Quello lì non fa altro che contristare lo Spirito Santo, contristare Dio e quindi si rende peccatore davanti al Signore. Si rende peccatore e Dio gliene chiederà conto. A tutto il resto gli verrà chiesto conto anche di quello. Quindi, fratelli, noi non dobbiamo essere di quelli che aggiungono peccato sopra peccato, di quelli che si inventano le cose per apparire più spirituali, fratelli. Noi non vogliamo apparire più spirituali. Noi vogliamo essere spirituali, che è una cosa ben diversa, fratelli. Noi vogliamo vivere spiritualmente, essere credenti spirituali che ricevono i doni potenti dall'alto. Quindi ci atteniamo alle scritture prima di tutto, ridomandiamo al Signore che dall'alto dona i suoi doni senza pentimento a chi crede e a chi li domanda. Perché Giacomo ha detto voi non ricevete perché non domandate. Ci sono quelli che non ricevono i doni di Dio, quello che il Signore gli ha promesso, perché semplicemente non lo domandano. Hanno fede magari, però non domandano. Poi ci sono quelli che non ricevono perché non hanno fede. Ci sono anche quelli. Perché chi non ha fede non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore se non ha fede. Quindi noi dobbiamo avere sia fede e dobbiamo domandare. Domandare i doni potenti a Dio. Perché questo dono potente ci aiuta ad essere più efficaci nel servire il Signore. Ci riempie di carità, ci riempie di fede, ci riempie di sapienza e di intelligenza. Siamo ripieni dello Spirito Santo. Se già una misura, va bene? Se già una misura di spirito che ci è stata data nel momento in cui siamo nati di nuovo, diciamo, siamo diventati spirituali e serviamo il Signore, siamo cambiati completamente, adesso serviamo il Signore, figuriamoci quando saremo riempiti della potenza dello Spirito Santo. Allora saremo liberati di tante altre problematiche, di freni vari che avremo e si servirà maggiormente il Signore con più potenza, con più efficacia. Con più efficacia. E così Gesù l'ha detto al versetto 8, atti 1-8, voi riceverete potenza. Non dice che riceverete la salvezza, non dice che riceverete lo Spirito Santo, che comincerete a ricevere lo Spirito Santo da quel momento. No, riceverete potenza. Una potenza, attenzione, una misura di potenza c'è già, perché dal momento in cui siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto una misura di Spirito, tutti quanti. Perché se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui, dice l'Apostolo Paolo. Quindi lo Spirito Santo ce l'hanno tutti i figlioli di Dio, tutti i credenti. Però c'è chi, ecco perché si parla di pienezza di Spirito, capite? Si parla di pienezza perché la misura, la misura di Spirito, può cambiare da una persona all'altra. E con la pienezza dello Spirito, con il battesimo con lo Spirito Santo, si viene riempiti, noi essendo un vaso di terra, un vaso di terra, questo vaso viene riempito dalla potenza dello Spirito Santo. Quindi questo è uno dei desideri e dei doni di Dio che dobbiamo ricercare e desiderare ardentemente e domandare. Se uno vuole piacere a Dio, deve per forza di cose, deve per forza di cose domandarlo e desiderarlo. Come Gesù ha annunciato e ha promesso. Dopo ve lo promesso, quindi qui Gesù, prima di ascendere al cielo, ha promesso il battesimo con lo Spirito Santo. Si è fatto vedere dai suoi discepoli per 40 giorni, dal giorno della Pasqua, dal giorno della Risurrezione, e gli ha detto che fra non molti giorni riceverete la promessa del Padre, sarete battezzati con lo Spirito Santo. Fra non molti giorni. Questi non molti giorni consistevano in dieci giorni, perché dal quarantesimo giorno al giorno della Pentecoste, perché il giorno della Pentecoste decorreva al cinquantesimo giorno dalla Pasqua. Gesù era stato crocifisso il giorno prima di Pasqua, il terzo giorno era risuscitato, si è fatto vedere per circa 40 giorni dai suoi discepoli, e quindi dopo 40 giorni, circa dalla Pasqua, gli mancavano ancora dieci giorni per il giorno della Pentecoste. Quindi dal giorno che Gesù fu salito in cielo, al giorno della Pentecoste, che ricevettero per primi il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento, il dono dello Spirito Santo, passarono circa dieci, passarono dieci giorni. Questa promessa, adesso sempre in Atti degli Apostoli, in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, leggiamo l'adempimento della prima volta di questa promessa. Qui dal capitolo 2, versetto 1, E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento, di vento impettuoso, che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. E apparvero loro delle lingue, come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Or, in Gerusalemme, si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione, di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco, tutti costoro che parlano non sono egli Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro natio linguaggio? Noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, critesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere questo, ma altri, beffandosi, dicevano sono pieni di vin dolci. Vedete quindi che erano addirittura in quella stanza, forse non stavano neanche pregando Dio per ricevere questo dono, perché qui dice che erano insieme nel medesimo luogo. Poi dice versetto 2 ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. Vedete, non c'è scritto che erano inginocchiati a domandarlo. Quando venne il momento stabilito da Dio, va bene, quando venne il momento stabilito da Gesù Cristo, ricevettero il dono dello Spirito Santo, perché Gesù l'aveva promesso e loro avevano fiducia per riceverlo, sicuramente l'avevano domandato, però venne nel momento che Dio stabilì, non venne nel momento in cui diciamo uno l'ha cercato in modo particolare. Certo, attenzione, si deve ricercare questo come si deve ricercare tutto il resto, con intensità, determinazione e costanza, attenzione. Però quando si riceve questo dono, come anche la salvezza e come tutto da Dio, si riceve nel momento in cui Dio ha stabilito che noi lo riceviamo. Quindi dobbiamo avere fiducia nel Signore. Cosa vuol dire che non l'ho ricevuto il primo anno, non l'ho ricevuto il primo mese, non l'ho ricevuto da una settimana, che sto pregando, non prego più, tanto a me Dio non me lo dà. Questo non è corretto, fratelli e sorelle, questo ragionamento. Questo ragionamento intanto fa vedere che uno ha poca fede, poi fa vedere che non conosci come opera il Dio e non hai pazienza di aspettare. E sì, non possiamo fare questo ragionamento, questi ragionamenti. Qui bisogna avere pazienza. Le cose vengono anche il nostro padre Abramo ricevete la promessa dell'iddio altissimo, quella del figliolo, dopo tanti anni. Non è che l'ha ricevuta subito. Quindi cosa vuol dire essere impazienti? A me no, a me qua, a me là, non me l'ha data ancora, ho già pregato abbastanza. Cosa vuol dire questo? Qui le cose, non è che si schioccano le ditta e c'è il Signore che come taluni dicono che non ci dà le cose se noi non gliele domandiamo o meglio, o meglio, ce le dà nel momento che noi schiacchiamo le ditta che le vogliamo subito. No, no, il Dio vuole che noi le domandiamo e poi a suo tempo lui ci esaudirà secondo la sua volontà. Cioè, il Dio non è alle nostre dipendenze. Semmai noi, cristiani e figlioli dell'idio altissimo siamo alle sue dipendenze. Dipendiamo da Lui e dobbiamo servire Lui. non è che Lui deve servire noi. Facciamo attenzione a non scambiare le posizioni che noi ordiniamo e Lui obbedisce. Qui è il contrario. Lui ordina e noi obbediamo. Così devono stare alle cose. Altrimenti sarebbe Lui al nostro servizio e non noi al suo servizio. Quindi abbiamo visto che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Questo è importante perché quello che è avvenuto all'inizio deve avvenire sempre perché gli Apostoli non è che hanno ricevuto circa centoventi non è che hanno ricevuto un dono che poi è diverso da quello che si riceve oggi. È sempre lo stesso medesimo dono con lo stesso segno delle lingue. Attenzione, qui c'è scritto cominciarono a parlare in altre lingue e così avviene per tutte le volte che uno viene battezzato con lo Spirito Santo. Questo vaso di terra viene riempito dall'acqua potente dall'acqua che disseta dall'acqua che aveva promesso il Signore Gesù e trabocca. Capite? Trabocca e non riusciamo a contenerlo dentro di noi e trabocca in lingue di fuori in questo grande potente segno che ad alcuni non piace. A me mi piace perché l'ha stabilito Dio. Se l'avese stabilito un uomo avrei cominciato a pensarci su ma siccome l'ha stabilito Dio a me mi piace tutto quello che Dio ha stabilito è buono. Sono le cose che stabiliscono gli uomini che talvolta mi deludono e mi lasciano l'amaro ma quello che Dio ha stabilito egli essendo Dio è perfetto non c'è stato niente fino adesso che ha sbagliato e che l'ha fatto in maniera non utile per noi. Quindi poi questo parlare in lingue questo questo riempimento che poi si è manifestato esteriormente con il parlare in lingue la scrittura in altri punti dice che chi parla in altre lingue edifica se stesso e quindi fratelli quando uno si mette in ginocchio dopo essere stato battezzato con lo Spirito Santo e parla in altre lingue e quello viene edificato viene edificato potentemente dallo Spirito Santo quindi anche da solo vedete si viene edificato e quindi è un dono è un dono diciamo anche che riguarda la nostra solitudine se uno si trova da solo ma viene edificato potentemente parlando in altre lingue gloria a Dio cioè più compagnia del Signore di così io non so che cosa che cosa il Signore poteva darci di più è un dono potente è un dono che in comunità insieme all'interpretazione delle lingue si manifesta potentemente per edificare tutti e da soli si parla in altre lingue si viene edificati cioè se utilizzato in una certa maniera naturalmente perché se non c'è chi interpreta si devono tacere quelli che parlano in lingue in comunità con gli altri si devono tacere cioè si deve parlare in lingue solamente a voce alta solamente se c'è chi interpreta se invece non c'è chi interpreta si devono tacere e devono parlare a se stessi e a Dio ma comunque è un qualcosa è un dono potente che quando poi si manifesta si viene riempito e si parla in altre lingue si viene edificati quindi quindi è una cosa da desiderare da domandare al Signore cioè non si può non si può lasciare stare a se stessa non lo si può trascurare questo dono potente perché dopo la salvezza è il dono più più glorioso più potente più utile per ogni singolo credente è il dono più utile da questo poi si aprono anche si apre anche la possibilità di ricevere i doni spirituali quindi hanno cominciato a parlare in altre lingue ci sono quelli che purtroppo dicono che parlavano in altre lingue perché evangelizzavano tutte quelle persone andiamo a vedere la scrittura cosa ci dice al versetto 11 quindi due undici di atti dopo aver fatto tutta la lista di tutte le persone dei vari posti dei linguaggi nati di tutte quelle nazioni località zone della terra l'allora conosciuta che erano numerosi tutti questi sentivano il parlare in altra lingua sentivano parlare in altra lingua nella loro lingua natia badate bene quindi questo cosa ci fa capire fratelli contrariamente a come tanti dicono che dicono di parlare solo la lingua degli angeli e noi qui però abbiamo senti abbiamo visto che Luca ha scritto che circa 120 parlano tutte le lingue di tutta la terra allora conosciuta quasi tutta la terra adesso c'è quella lista lì e quindi essenzialmente parlare sono lingue degli uomini fate attenzione perché molti si giustificano dicendo parlano lingue degli angeli emettono solo dei suoni il senso è questo emettono dei suoni che li vogliono far passare come una lingua nessuno li capisce di nessuna nazione e dicono che sono lingue degli angeli ma a me se fossero lingue degli angeli quelle lì sarei rimarri veramente deluso perché a me mi sembra un parlare inutile un parlare senza senso quando Paolo dice che mi sembra capitolo 13 di prima Corinzi quando dice che quando anche parlassi la lingua degli angeli pone quell'esempio lì come estremo non come la normalità ma come un qualcosa di estremo come se si potrebbero anche parlare ma non è quella la normalità la normalità è quella che leggiamo qui in atti 2 cioè che parlarono i circa 120 parlarono le lingue di tutte quelle parti del mondo che sono state elencate lì parlavano quel natio linguaggio e lo sentivano attenzione dicendo natio linguaggio vuol dire che lo parlavano bene con gli accenti in tutta la maniera cioè se uno parla quella lingua per lo Spirito Santo essendo che è lo Spirito Santo che parla lo parla perfettamente capite lo parla perfettamente quindi se uno parla il russo se uno è battezzato con lo Spirito parla il russo parla il russo meglio forse dei russi perché i russi si possono anche sbagliare nel parlare lo Spirito Santo non si sbaglia e quindi quel russo sarà un vero russo perfetto con tutte le virgole e le regole grammaticali che c'ha la Russia la lingua la lingua russa come c'ha delle regole grammaticali l'italiano c'ha una regola grammaticale anche tutte le altre lingue l'arabo e tutto l'ebraico e tutte le altre lingue quindi quando si parla una lingua severamente battezzati con lo Spirito Santo si parla quella lingua in modo perfetto non ci sono errori perché è lo Spirito Santo che parla cioè parlare in altre lingue è una manifestazione dello Spirito cioè non è l'uomo che le parla non se l'è decise lui non lo sa lui che cosa deve dire non si capisce neanche l'uomo non si capisce quello che lui stesso sta proferendo con la sua bocca perché la sua bocca in quel momento proferisce le parole che escono dallo Spirito Santo viene edificato perché viene edificato perché il suo Spirito interiormente insieme allo Spirito Santo compiono quell'opera quindi è qualcosa di profondo e di interiore ecco perché si viene si viene edificato perché il nostro Spirito lo Spirito dell'uomo del credente che insieme allo Spirito Santo fanno quello che poi esce la mente rimane infruttuosa cioè la mente non può elaborare quelle lingue perché se non ha il dono dell'interpretazione delle lingue non lo intende quello che sta dicendo in altre lingue neanche chi lo parla non lo intende però viene edificato perché lo Spirito Santo è dentro di lui ed è unito al suo Spirito è un qualcosa di molto profondo e si viene quindi edificati nel parlare in altre lingue non c'è niente di pericoloso non c'è niente di dannoso non c'è niente che ci fa del male qua è chiaro che ci sono anche i doni fasulli eh attenzione io ve lo devo dire perché è così ci si dice anche il diavolo che ci sono i demoni che falsificano anche questo dono eh ci sono ci sono quelli credenti che se li inventano cominciano da loro stessi a parlare che poi non riescano a parlare una lingua ma fanno dei suoni e mettono dei suoni senza alcun senso logico va bene senza alcun senso in alcuna lingua faccio un esempio se io ripeto continuamente ma sciai ma sciallai non sto parlando in lingue sto facendo rumore con la bocca ma lo sto facendo di mia volontà non viene dallo Spirito Santo e molti sono quelli che si allenano a casa per rendere la loro frasetta più lunga possibile io li ho sentiti ho sentito testimonianze insomma succede in questa maniera ci sono anche i falsi c'è la falsità ma come abbiamo detto essendo un dono che proviene dall'alto e che entra dentro il credente e riempie il suo vaso fino a traboccare non è che vediamo il risultato solo con le lingue dopo dobbiamo vedere perché una volta riempito il vaso dello Spirito Santo dobbiamo vedere anche una vita più santa più spirituale un parlare più spirituale un'intelligenza più spirituale capite una vicinanza a Dio maggiore in tutta la vita di quel credente come poi vediamo dopo dopo che furono battezzati con lo Spirito Santo i circa 120 cominciarono ad annunziare l'Evangelio qualcosa si è smosso non fu più tutto come prima e oltre che la potenza dello Spirito Santo le guarigioni i segni i prodigi che comunque c'erano avvenivano perché avviene anche quello c'era anche il fatto che si amavano infatti non c'era nessuno che diceva che le cose di cui era proprietario erano solo sue mettevano tutto a disposizione dei fratelli la carità era al massimo non era al massimo solo la potenza dei segni e dei prodigi a quell'epoca era al massimo la massima potenzialità che si poteva dare anche negli uomini era anche la carità capite la carità perché quando siamo nati di nuovo in Galati è scritto che il frutto dello Spirito Santo comincia appunto dalla carità la temperanza e la dolcezza ci sono ci sono diversi elementi che compongono il frutto dello Spirito Santo e andiamo a Lecce così mi ricordo meglio in Galati al capitolo 5 la conseguenza della nuova nascita è questa Galati 5.22 parla del frutto dello Spirito il frutto dello Spirito è amore allegrezza pace longanimità benignità bontà fedeltà dolcezza temperanza vedete quando si nasce di nuovo comincia a questo frutto a svilupparsi frutto al singolare attenzione tutte queste cose ci devono essere contemporaneamente si migliorano contemporaneamente non sono frutti non sono separati l'uno dall'altro è un grappolo d'uva composto da più acini in questa maniera va visto gli acini sono diversi l'uno dall'altro ma il grappolo non è composto da un acino solo non è un acino ma sono più acini e questo è il frutto giusto perché stiamo parlando di frutto è amore vedete ora se si viene se una misura di Spirito che non è la pienezza già produce in noi tutte queste cose le sviluppa le fa diventare visibili esteriormente a tutti i nostri parenti amici ci vedono cambiati ma tanto più ci devono vedere cambiati quando veniamo riempiti dalla potenza dello Spirito Santo perché quella misura diviene traboccante quindi oltre che la potenza dello Spirito oltre che le lingue c'è anche dentro di noi cresce anche il frutto dello Spirito Santo quindi se prima eravamo temperati dopo lo dobbiamo essere ancora di più temperati l'autocontrollo no? se prima avevamo carità dopo la dobbiamo avere di più maggiormente se prima eravamo allegri dopo lo saremo ancora di più se avevamo pace nel nostro cuore allora dopo l'avremo ancora maggiormente se eravamo pazienti longanimi se avevamo pazienza verso gli altri verso quelli che ci fanno del male verso quelli che ci fanno dei torti verso quelli che sono vicini a noi se noi eravamo longanimi verso loro con la potenza dello Spirito Santo con il riempimento lo dobbiamo essere ancora di più perché la misura è aumentata è molto maggiore quindi non è solo chiacchiere di lingue qua non è come taluni vogliono far vedere che hanno parlato in lingue tutte a posto qui c'è una vita che cambia capite è tutta la vita che cambia di nuovo con più potenza cambia la vita di nuovo è cambiata al momento della nuova nascita e cambia di nuovo perché tutte quelle cose che sono state notate all'inizio nel cambiamento con la nuova nascita dopo con la potenza col riempimento saranno ancora più evidenti saranno ancora più visibili a quelli che saranno vicini a noi ecco perché è più efficace la potenza si intende come efficacia nel compiere un maggiore servizio nella Chiesa perché tutto al cristianesimo che abita in noi sarà più accentuato sarà più forte sarà più visibile ancora a quelli di fuori perché si è riempiti ecco perché è necessario se prima aveva un po' di coraggio dopo se ne avrà di più capite cioè tutto non so se è raddoppiato dipende dalla misura di spirito che Dio aveva dato prima però sicuramente tutto quello il vaso tutto quello che il nostro vaso poteva contenere ecco ecco che viene messo e quindi sicuramente ci sarà un notevole aumento di tutto quello che noi siamo del nostro cristianesimo interiore attenzione interiore che poi si vedrà anche esteriormente quindi fratelli uno che parla in lingue e poi continua a fumare dopo continua a compiere azioni dopo capite quelli che avete conosciuto che erano disordinati prima e continuano ad essere disordinati dopo il battesimo con lo spirito santo ma quelli ve lo dico io non hanno ricevuto niente non hanno ricevuto niente e quindi non li dobbiamo temere e quindi non dobbiamo invidiarli non dobbiamo non dobbiamo tenerli proprio da conto anzi ci dobbiamo separare da quelle persone disordinate li dobbiamo ammonire severamente perché sono di scandalo ah quello guarda lì fuma madonne commette il sacco di peccati ruba insulta dice parlace poi parla in lingue dice di essere battezzato con lo spirito e ci credo che gli antipentecostali poi se la prendono contro di noi se la prendono contro questa promessa ma perché molti pentecostali hanno scandalizzato tutti questi fratelli capite un po' sono predisposti a non avere fiducia e temono i Dio e temono le cose gloriose che Dio ha preparato per il suo popolo dall'altra hanno provato ad affacciarsi alla finestra del locale di culto pentecostale e hanno visto un sacco di disordini hanno visto che rotolano hanno visto che muggono hanno visto che ululano hanno visto di tutti gli scandali possibili e certo che se ne scappano via hanno scandalizzato li hanno scandalizzati perché purtroppo questa dottrina a questa dottrina particolare il maligno l'ha attaccata in modo potente come l'ha attaccata l'ha attaccata facendo scandalizzare molti e allontanarli da questa promessa lo scopo del maligno con gli scandali su questo aspetto qual è stato? è stato quello di allontanare le persone dal desiderare questo dono e per molti ci è riuscito per molti ci è riuscito perché vedendo tutti gli scandali hanno cominciato a non pregare più a non chiederlo più e sono stati scandalizzati e si privano si privano di questo grande dono cosa che da adesso in poi se c'è qualcuno anche in mezzo a voi che ha reagito in questa maniera basta basta questa mia predicazione esortazione chiamatela come volete meditazione deve essere un nuovo punto e a capo si ricomincia da questo punto di vista a riesaminare le scritture a pregare in ginocchio e a domandare di nuovo il dono da parte di Dio se c'è qualcuno che aveva smesso deve ricominciare perché questa è la volontà di Dio quindi abbiamo visto l'aspetto che riguardava le lingue adesso andiamo a vedere andiamo a vedere siccome si crea la situazione successiva dall'aver ricevuto questo dono c'erano quelli che volevano sapere cosa è successo ai circa 120 e Pietro lo spiega al versetto 16 l'Apostolo Pietro sempre di Atti 2 versetto 16 l'Apostolo Pietro dice ma questo quindi è riferito a quell'esperienza che hanno sentito poco prima ah ecco dovevo finire ancora perché non l'avevo detto mi sono perso un po' in altri discorsi che praticamente quando parlare in lingue i circa 120 i circa 120 non annunziarono l'Evangelo a quelli che ascoltavano ma parlavano delle cose grandi di Dio questo lo dice al versetto al versetto 11 li udiamo parlare delle cose grandi di Dio vedete non annunziarono l'Evangelo non profetizzarono ma parlarono delle cose grandi di Dio questo parlare corrisponde a quello che Paolo ha detto Paolo ha detto che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio naturalmente quando si parla a Dio che cosa si deve fare o si canta a Dio o si prega a Dio o si benedice a Dio o si parla delle cose grandi di Dio per lodarlo per ricordare le testimonianze di Dio e quello che Dio ha fatto qui vedete c'è proprio una parte una conferma di quello che l'Apostolo Paolo poi spiega ai Corinzi quando al capitolo 14 spiega cosa è il parlare in altre lingue e la profezia la distinzione e anche cos'è l'interpretazione delle lingue qui c'è un esempio che conferma quello che spiega l'Apostolo Paolo cioè che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio a differenza della profezia che invece la profezia chi profetizza sempre per opera dello Spirito Santo parla agli uomini da parte di Dio quindi il contrario quindi con le lingue il discorso che si fa che non è un messaggio in lingue ma è una preghiera una lode un benedire Dio un cantare a Dio anche va dall'uomo cioè dallo Spirito Santo verso il cielo verso Dio con la profezia invece è dal cielo che viene il messaggio da Dio che passa attraverso quella persona lo Spirito Santo viene rivolto agli uomini alla Chiesa quindi sono due direzioni diverse le lingue con la profezia sono due doni diversi bene questo per fare la differenza che purtroppo anche questo non è stato compreso nelle comunità e c'è confusione si confonde l'interpretazione con la profezia cioè si parla in lingua e dopo si profetizza si prende come un messaggio un messaggio da parte c'è come se in lingua si fosse dato un messaggio non è così fratelli il parlare in altre lingue è sempre come scritto come leggiamo qui in Atti 2 11 e come anche spiega l'Apostolo Paolo al capitolo 14 di Prima Corinzi che è un parlare rivolto a Dio quindi non fatevi ingannare quando incontrate qualcuno e sentite qualcosa in qualche comunità in qualche gruppo voi dovete conoscere le scritture per poter poi esaminare tutte le cose andando avanti quindi poi vediamo che Pietro spiega l'Apostolo Pietro spiega cosa hanno ricevuto in quell'occasione e a questo proposito il versetto 16 cita appunto il versetto di Gioele che abbiamo già letto in precedenza e lo ribadisce dice l'Apostolo Pietro questo è questo quindi questa esperienza che hanno sperimentato e che hanno sentito tutte quelle quella gente è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele quindi quella promessa fatta dal profeta Gioele ha iniziato ad adempiersi il giorno della Pentecoste dopo che Gesù fu risuscitato perché avevamo letto che non potevano ancora riceverlo perché Gesù ancora non era glorificato quindi appena Gesù fu glorificato ricevete da Dio Padre la promessa dello Spirito Santo ed ha cominciato a distribuire questo è scritto che Gesù dopo che fu glorificato al versetto 33 sempre di Atti 2 Egli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso ha sparso quello che ora vedete e udite considerate bene questo vedete e udite perché troviamo questa parola vedete riguardo allo Spirito Santo alle lingue anche in altri punti quindi è collegato è collegato anche il vedere e l'udire per quanto riguarda la manifestazione del Battesimo con lo Spirito Santo quindi c'è scritto al versetto 17 e avverrà negli ultimi giorni dice il Dio che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne vedete abbiamo detto prima abbiamo detto prima che cosa voleva dire sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno i vostri giovani vedranno delle visioni vedete oltre oltre alle lingue che si manifesteranno qui il profeta Gioele è citato poi dall'Apostolo Pietro dice anche che i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno vedete quindi si apre proprio una nuova vita completa per quanto riguarda i credenti cioè seguirà a questo seguiranno anche le profezie il dono di profezia infatti vedremo più avanti che ci saranno dei credenti che saranno sia battezzati con lo Spirito Santo e parleranno in lingue e anche profetizzeranno sono due doni diversi però vedi qui il profeta Gioele lo aveva preannunciato quindi non deve meravigliarci è avvenuto quello che Dio ha promesso tutte le promesse di Dio fratelli hanno in Cristo l'adempimento tutte le promesse di Dio sono buone per i credenti e si adempiono perché Dio non è possibile che abbia mentito non ha riguardi personali non è che nel 2014 adesso Dio non battezza più cioè l'ha promesso l'ha promesso per tutti sopra ogni carne ed è per tutti e questo lo vedremo lo vedremo ancora più avanti lo citeremo di nuovo quindi dice ancora sempre legato al profeta Gioele la citazione di Pietro i vostri giovani vedranno delle visioni come conseguenza adesso non è che senza il battesimo con lo spirito santo non si possono avere visione si si possono avere ma qui vuole dire che col battesimo con lo spirito santo i sogni e le visioni che sono citati dopo saranno diciamo diventeranno non dico una normalità ma saranno molto più numerosi perché saranno anche queste una conseguenza potente di questo riempimento dello spirito santo quindi ci saranno i giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni quindi ci saranno visioni date da Dio cioè un ratto di mente col quale uno è sveglio e vede cambia lo scenario davanti ai suoi occhi e vede quello che Dio gli fa vedere noi siamo dentro a casa non vediamo montagne non vediamo non vediamo non so pratti fioriti a un certo punto si apre davanti a noi come un no come un cosa di teatro che si tirano le tende e c'hai la visione vedi quello che Dio ti fa vedere una visione un ratto di mente cioè Dio ti fa vedere nella tua mente apparentemente sembra che lo guardi con gli occhi ma Dio ti fa vedere quello che Lui ti vuole far vedere è una visione da svegli mentre quando si dorme il Dio può dare dei sogni anche tutte queste cose possono essere date tranne la profezia anche i sogni e le visioni possono essere dati anche a chi non è battezzato con lo spirito santo però chi è battezzato con lo spirito dopo lo spargimento del battesimo con lo spirito santo queste cose diventano più numerose diventano di più è qualcosa che viene in più dato liberamente dal Signore e questo è la prima adempimento c'era qualcosa da dire lo diremo dopo per i seguenti versetti qui non è che abbiamo finito ce ne sono cose da dire anzi io sto stringendo per non andare troppo in là dopo questo adempimento abbiamo che ce ne sono anche altri ad esempio andiamo a quello che accadde accadde ah sì ai samaritani ai samaritani praticamente ci fu l'uccisione di Stefano servitore di Dio e scoppiò una persecuzione a Gerusalemme nei confronti dei dei cristiani dopo il battesimo con lo spirito santo dopo tutto successo diverse cose cominciarono ad annunziare l'Evangelo con potenza molti a migliaia si convertivano insomma poi i giudei si mossero per perseguitare la chiesa per perseguitare i cristiani e furono perseguitati misero a morte Stefano tutti si dispersero tranne gli apostoli se ne andarono da Gerusalemme e si dispersero per tutta la giudea e dove andavano andavano annunziavano l'Evangelo ora in Samaria si trovò l'Evangelista Filippo l'Evangelista Filippo che annunziò l'Evangelo e molti dei samaritani si convertirono al Signore e furono battezzati in acqua allora Filippo l'Evangelista annunziava l'Evangelo compiva grandi segni prodigi e miracoli cacciava i demoni guariva gli infermi e aveva battezzati in acqua i samaritani però non aveva l'autorità di imporre le mani per far ricevere lo Spirito Santo quindi questo ci fa comprendere anche che lo Spirito Santo ad esempio al giorno della Pentecoste scese sui circa 120 senza imposizione delle mani mentre qui i samaritani furono mandati Pietro e Giovanni affinché si accertassero di quello che era successo e imponessero le mani a questi che avevano creduto per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo quindi vennero gli apostoli per imporre per imporre le mani e far ricevere ai samaritani il battesimo con lo Spirito Santo vennero gli apostoli l'Evangelista Filippo non aveva questa autorità questo ci fa comprendere che tra l'apostolo e l'Evangelista i doni sono diversi la potenza è diversa l'autorità è diversa infatti in Efesini leggiamo che l'autorità maggiore ce l'hanno gli apostoli anche l'Evangelista è un dono di ministerio diverso da quello di apostolo cioè non corrispondono nello stesso possono non corrispondere nella stessa persona non è come dicono taluni che il pastore ha tutti i doni di ministerio no no fratelli i ministeri vengono dati essenzialmente a persone diverse perché ognuno deve fare il suo lavoro non può fare tutto uno capite non può fare tutto uno infatti qui c'era l'Evangelista Filippo che fece un certo lavoro un certo servizio al Signore e poi per completarlo furono mandati gli apostoli vedete ognuno ha bisogno dell'altro e quindi arrivarono gli apostoli Pietro e Giovanni e siamo al capitolo 8 di Atti al versetto 15 i quali essendo discesi là pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo quindi gli apostoli Pietro e Giovanni imposero le mani ai samaritani che credettero quando l'Evangelista Filippo li evangelizzò e poi li battezzò in acqua subito non aspettavano mesi l'estate l'inverno quando credevano venivano battezzati all'epoca era così e così dobbiamo anche noi ritenere oggi per comodità anche noi oggi cerchiamo di far quadrare arrivare alla zona calda del periodo dell'anno per battezzare però biblicamente non è così biblicamente ci si deve convertire e poi farsi battezzare in acqua questo è quello che c'è biblicamente tutto il resto viene dall'uomo viene da noi mi ci metto in mezzo anche io perché talvolta è così le problematiche hanno a volte la meglio su quello che si tratta su quello che riguarda la pratica perfetta di quello che è scritto nelle sacre scritture però così noi dobbiamo dire quello che è scritto la verità poi la pratica possiamo anche sbagliarla ma almeno non dobbiamo non dobbiamo giustificare nostri eventuali falli comunque tralasciando il battesimo in acqua ci concentriamo sul battesimo con lo spirito santo e gli apostoli Pietro e Giovanni imposero le mani a questi samaritani che credettero e ricevettero il battesimo con lo spirito santo per l'imposizione delle mani quindi gli apostoli hanno anche questa questa autorità e questa potestà un altro adempimento lo vediamo più avanti al capitolo 10 ah ecco al capitolo 8 che non l'ho detto dobbiamo dimostrare anche che c'è un segno visibile come vi ho detto prima sul vedere andando avanti sempre al capitolo 8 vediamo che si convertì anche un certo simon mago simon mago si convertì e la scrittura dice queste queste parole dal versetto 18 quindi 8 18 di atti or simone vedendo attenzione notate la parola vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo spirito santo offerse loro del denaro dicendo date anche a me questa potestà che colui al quale io imponga le mani riceva lo spirito santo naturalmente poi simon mago è stato ammonito da pietro giustamente perché ha commesso il peccato di simonia no che proviene appunto da questo passo della scrittura viene chiamato così cioè voler acquistare i doni di dio con il denaro diciamo che è molto legata la simonia al al cattolicesimo con le indulgenze e con altre cose ma questa cosa qui del peccato di simonia purtroppo si sta verificando anche nelle chiese pentecostali oggi infatti si sentono certe prediche come dire che la benedizione il risveglio è legato al tuo portafoglio non so se vi ricordate questo video cioè se tu dai al signore paghi ricevi benedizioni ricevi ricevi diciamo i doni di cui hai bisogno il risveglio di cui hai bisogno pagare denaro ricevere e doni da Dio la stessa cosa che Pietro ha ammonito in simon mago capite quindi la simonia non è un peccato che è legato solo al cattolicesimo ma purtroppo si sta verificando anche oggi anche nell'ambito delle chiese evangeliche chiese pentecostali quindi guardatevi da queste persone che legano la benedizione di Dio a un pagamento monetario cioè tu dai i soldi al pastore e poi Dio ti benedice ma è una furberia questa fratelli è peccato e anzi pagare i soldi per ricevere qualcosa da Dio è un peccato grave infatti Pietro lo presenta come un peccato grave nei confronti di di simon mago e ancora oggi che ti pensi tu vai lì paghi i soldi al pastore e ricevi i doni di cui hai bisogno la guarigione o chissà che cosa desideri e lo ricevi no non è così è un peccato quello pensare in questa maniera i doni di Dio non si comprano con i soldi i doni di Dio si ricevono si domandano e si ricevono ci si mette in ginocchio ci si spella le ginocchia si vengono i calli le ginocchia si alzano le braccia al cielo si grida si piange ma non si pagano i doni di Dio si chiedono ma non si pagano che è un peccato gravissimo e purtroppo nelle chiese evangeliche si vede anche questo comunque per tornare il nostro simon mago vedete dice al versetto 18 vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo spirito santo mentre a capitolo 2 versetto 33 avevamo detto che c'era scritto egli dunque essendo stato esaltato parlando di Gesù era stato essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal padre lo spirito santo promesso ha sparso quello che ora vedete e udite vedete sta scritto vedete e udite qui cosa si udì cosa si udì quando scese lo spirito santo a Pentecoste si udì il parlare in altre lingue qui dice solo vedete ma sicuramente udì anche lo possiamo dedurre tranquillamente senza timore di sbagliarci Simo Mago lo vide e lo sentì che questi samaritani dopo l'imposizione delle mani parlarono in altre lingue parlarono in altre lingue e se no come vide che succedeva qualcosa per l'imposizione delle mani lo poteva solo vedere perché il segno predisposto da Dio per il battesimo con lo spirito santo era il parlare in altre lingue e quindi Simo Mago lo vide in quel senso lo vide nel senso che lo sentì quindi anche i samaritani quasi certamente anzi sicuramente perché questo è il segno che è dato col battesimo con lo spirito santo col riempimento il segno che è dato sono le lingue cioè non ci può essere un riempimento di spirito santo senza parlare in altre lingue perché non ci può essere il riempimento di un vaso fino a farlo traboccare senza la fuoriuscita del liquido mettiamo così se noi facciamo traboccare un vaso d'acqua l'acqua esce di fuori se trabocca capite per forza di cosa esce se uno viene riempito di spirito santo fino a traboccare quell'uscita di fuori non è altro che il parlare in altre lingue in questa maniera viene descritto dalla scrittura quindi anche i samaritani riteniamo che parlarono in altre lingue adesso andiamo avanti e leggiamo ancora perché non sono gli unici esempi perché ci sono gli antipentecostali cosiddetti antipentecostali che si oppongono che dicono che non è biblico il battesimo con lo spirito santo che diciamo che non ci sono quelli che hanno parlato in altre lingue che c'è solo l'esperienza insomma dicono tante cose che non sono vere noi adesso esaminiamo qualche passo per capire che questo come si adempie per capire come si è adempiuto in certi credenti questo dono allora l'apostolo Pietro adesso siamo al capitolo 10 sempre di atti degli apostoli l'apostolo Pietro attraverso una maniera meravigliosa gloriosa da parte di Dio attraverso sogni visioni attraverso visioni rivelazioni attraverso un angelo che Dio andò mandò per parlare a Cornelio fa incontrare l'apostolo Pietro con Cornelio e la sua casa Pietro incontra incontra Cornelio e la sua casa gli annunzia l'Evangelo mentre gli sta annunziando l'Evangelo ecco che accade questo e lo leggiamo al versetto 44 quindi siamo atti 10 44 mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare i D vedete quindi mentre Pietro parlava gli annunziò l'Evangelo dopo che gli annunziò l'Evangelo che sicuramente perché lo Spirito Santo lo ricevono solo coloro che hanno già creduto quindi qui in questo caso l'hanno ricevuto poco dopo poco dopo il essere aver creduto quindi è avvenuto in Cornelio e nella sua casa è avvenuto che hanno creduto al messaggio di Pietro il Dio aveva predisposto tutto conosceva i cuori ha operato per salvarli ecco che subito dopo poco dopo quanto tempo dopo non lo so però si tratta qui di minuti del tempo in cui Pietro parlava poi a un certo punto lo Spirito Santo scese su su coloro che ascoltavano qui da notare che Pietro non impose le mani quindi ricevettero solo dopo e neanche sicuramente lo chiesero qui stava Pietro annunziando l'Evangelo questo ci fa comprendere che lo Spirito Santo il Dio lo distribuisce come egli vuole ma noi sapendo che c'è questa promessa e sapendo che c'è scritto anche che dobbiamo domandarlo lo dobbiamo domandare con desiderare ardentemente domandare però può accadere che in taluni questo battesimo con lo Spirito Santo scende senza che nemmeno fosse richiesto perché il Dio ha stabilito in questa maniera ha stabilito in questa maniera il Dio è sovrano fa quello che lui vuole quindi mentre Pietro parlava è sceso lo Spirito Santo su tutti questi gentili e li udirono parlare in altre lingue e magnificare il Dio vedete magnificavano il Dio e quindi anche Cornelio e la sua casa furono battezzati con lo Spirito Santo c'è un altro passo vi ricordate quando Paolo dice in una delle epistole che io parlo in altre lingue più di tutti voi e sicuramente ci dobbiamo domandare quando l'Apostolo Paolo ha iniziato a parlare in altre lingue cominciò a parlare in altre lingue ma sicuramente quando il Dio gli mandò a Nania anche se non c'è scritto in Atti degli Apostoli noi lo dobbiamo dedurre lo dobbiamo capire fratelli cioè non tutto è imboccato alcune cose le dobbiamo mettere insieme noi non interpretare chissà come ma mettere insieme sì quindi Paolo da una parte ha detto io parlo in altre lingue più di tutti voi scrivendo ai Corinzi in Atti degli Apostoli il Dio gli ha mandato a Nania che gli ha imposto le mani è stato guarito quindi si può tranquillamente presumere con verità che Paolo fu battezzato con lo Spirito Santo in quel momento quando gli impose le mani a Nania il servo di Dio a Nania quando gli impose le mani a Damasco e poi fu battezzato in acqua capite quando riprese a vedere perché non vedeva l'Apostolo Paolo e poi sicuramente ha iniziato lì a parlare in altre lingue cioè anche Paolo lo dobbiamo annoverare tra quelli che hanno parlato sono stati battezzati con lo Spirito Santo e ha iniziato a parlare in altre lingue ora andiamo a leggere cosa accadde invece agli Efesini al capitolo 19 di Atti degli Apostoli dove Paolo incontra alcuni discepoli di Efeso al capitolo 19 dice Luca scrive queste parole or avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo avendo attraversato la parte alta del paese venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste ed essi a lui non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo ed egli disse loro di che battesimo siete dunque stati battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni e Paolo disse Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signor Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profettizzavano ecco in questo caso l'Apostolo Paolo riconobbe vedete il fatto è che questi erano discepoli cioè avevano creduto queste persone questi credenti avevano creduto anche se erano discepoli di Giovanni Battista perché Giovanni Battista annunziava la salvezza in Cristo e per la misericordia di Dio chi credeva credeva era nato riceveva una misura di spirito era nato di nuovo credeva in Dio credeva nel Messia che doveva venire questi discepoli quando Paolo li incontrò riconobbe in loro che non avevano ricevuto la potenza dello Spirito Santo infatti gli fa la domanda riceveste voi lo Spirito Santo mi sembra strano però gli fece lo stesso la domanda ma qui non sta parlando di quella misura di spirito che si riceve quando si è nati di nuovo perché? perché l'Apostolo Paolo non poteva dire quando credeste l'avete ricevuto lo Spirito cioè è come dire ma quando siete stati salvati siete stati salvati da Dio è così che bisogna dire le cose se sei stato salvato da Dio sei stato salvato cioè Paolo non avrebbe mai fatto questa domanda inutile semmai ha un senso questa domanda dell'Apostolo Paolo che voleva dire lui voleva intendere che siete stati riempiti dello Spirito Santo quando avete creduto e loro gli hanno spiegato che non erano non erano neanche stati battezzati nel nome di Gesù allora Paolo ha provveduto alle mancanze di questi discepoli a provvedere alle loro mancanze quindi prima li ha battezzati nell'autorità di Gesù con la formula che Gesù ha insegnato con la formula diciamo nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo anche se qui c'è scritto nel nome di Gesù non deve ingannarci questo perché qui per brevità è stato scritto così per distinguere dal battesimo di Giovanni Battista per indicare con quale autorità è avvenuto quel battesimo è stato fatto quel battesimo qui è indicato nel nome del Signore Gesù ma questo ma noi che guardiamo la somma della parola non ci trae in inganno noi guardiamo la somma della parola non un semplice passaggio mettiamo insieme tutti i pezzi comunque adesso questo passo ci interessa perché dopo l'Apostolo Paolo ha imposto le mani in questo caso vedete di nuovo c'è un'imposizione delle mani c'è una imposizione delle mani col quale questi circa dodici discepoli dodici uomini ricevettero lo Spirito Santo ricevere questo Spirito Santo si è manifestato qui è scritto chiaramente è scritto chiaramente che parlarono in altre lingue parlarono in altre lingue e qui addirittura e profetizzavano cioè parlavano sia in lingue ma qualcuno ricevete o tutti o qualcuno ricevete anche il dono di profezia che le lingue è una cosa le profezie è un'altra sono due doni distinti badate bene il dono che si lega alle lingue è il dono dell'interpretazione delle lingue il dono della profezia è a sé stante viaggia da solo è sufficiente da solo le lingue invece vanno insieme all'interpretazione delle lingue per edificare la chiesa o ci sono solo le lingue l'interpretazione delle lingue invece deve essere unito alle lingue e quindi in questo passaggio in questo passaggio c'è appunto parlarono in altre lingue questi circa dodici uomini adesso abbiamo visto quindi alcuni esempi di adempimento della promessa ma volevo concludere concludere questa meditazione questa esortazione a domandare a domandare al Signore questo dono potente ricordando ricordando ancora fare facendovi un discorso che riguarda ancora la promessa la promessa di questo dono potente e qui dobbiamo tornare al momento in cui l'Apostolo Pietro spiegò che quello che ricevettero il giorno della Pentecoste era la promessa dello Spirito Santo che fece il profeta Gioele e tra le cose che disse c'era anche questo che adesso lo andiamo ad esaminare insieme al versetto 38 quindi atti 2 38 l'Apostolo Pietro dice queste parole trascritte da Luca ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché per voi è la promessa per i vostri figlioli per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà vedete qui dice che dovevano convertirsi prima al Signore l'Apostolo Pietro dovevano farsi battezzare e dopo avrebbero ricevuto il dono dello Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo e poi dice ancora al versetto 39 perché per voi è la promessa cioè per voi che mi state ascoltando e quelli erano giudei quindi la promessa è per i giudei poi dice per i vostri figlioli quindi per i discendenti dei giudei che lo ascoltavano in quel momento poi dice per tutti quelli che sono lontani in questa frase ci sono i gentili fratelli perché i gentili venivano indicati vengono indicati nella scrittura come coloro che sono lontani perché c'era il popolo di Israele che era vicino a Dio e i gentili invece erano lontani le genti tutti quelli che non erano giudei venivano indicati come quel popolo che erano lontani da Dio e qui nell'indicare quindi la promessa era per i giudei per i figlioli discendenti dei giudei ma Pietro dice anche per tutti quelli che sono lontani quindi sta indicando noi gentili per i gentili quella promessa era anche per i gentili quindi non solo Gioele citò il passaggio sopra ogni carne ma la promessa anche Pietro ha confermato la promessa fatta anche anche importante ai gentili quindi anche per noi gentili poi continua dicendo per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà vedete per il futuro non c'è un limite cioè non c'è da nessuna parte anzi dopo vediamo quale limite è posto per quanto riguarda questa promessa cioè il limite temporale allora qui si è risolto un limite si è risolto in questo passaggio in Gioele si risolvono il limite per quanto riguarda il territoriale per quanto riguarda il limite territoriale o di popolazioni è scritto nel profeta Gioele e anche lo conferma l'apostolo Pietro che il limite delle popolazioni non c'è più cioè non c'è un limite rivolto solo agli ebrei ai giudei ma viene dato il battesimo con lo spirito santo a tutti quelli che crederanno di qualsiasi nazione popolo e lingue quindi non c'è una chiusura di questo dono solo ai giudei ma è stato aperto questo dono oltre che della salvezza anche quello del battesimo con lo spirito santo a tutti a tutte le popolazioni tribù e lingue ma qui noi possiamo comprendere anche il limite di tempo esaminiamo le scritture per trovare anche un limite di tempo siamo costretti a farlo perché purtroppo ci sono quelli che dicono che questo dono è cessato allora dobbiamo studiare le scritture anche sotto questo punto di vista vedere se c'è nella scrittura qualche limite temporale qui Pietro ne pone non ne pone o meglio non ne pone Pietro dice per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà quindi il futuro è posto da quel momento in futuro va bene quindi Pietro non ci dà elementi che ci possano dire che dopo un secolo dopo di loro il dono cessasse no anzi lo apre dicendo per quanti Dio nostro ne chiamerà quindi il dono è aperto al futuro anche oltre quella generazione presente in quel momento quindi non c'è quel limite non è cessato con gli apostoli non è cessato al primo secolo questo dono ma Pietro lo apre per il futuro dicendo per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà al futuro vedete quindi non c'è un limite temporale legato agli apostoli altrimenti non avrebbe detto così pensando al futuro non avrebbe potuto dirlo ma torniamo ora al capitolo 2 sempre capitolo 2 versetto 17 leggiamo l'abbiamo già letto fino a dal versetto 19 cerchiamo nella promessa di Gioele anzi no lo leggiamo lo rileggiamo dal versetto 17 questi sono passaggi che ci dobbiamo ricordare anche a memoria dobbiamo sapere dov'è dobbiamo ricordarne a pezzettini a memoria perché perché questa è una dottrina importantissima per i credenti è diciamo il baluardo dei pentecostali noi ci definiamo anche pentecostali perché portiamo avanti il messaggio del battesimo con lo spirito santo ricevuto il giorno della pentecoste alcuni dicono che si riceve la pentecoste badate bene io capisco cosa vogliono dire questi fratelli che dicono così però la pentecoste è una festa è come dire la festa delle capanne è come dire la festa di Pasqua non è che si riceve la festa di Pasqua la festa di Pasqua si osserva quindi è improprio dire che si riceve la pentecoste diciamo quello che dobbiamo dire è quello che dice la scrittura si riceve il battesimo con lo spirito santo il dono dello spirito si riceve lo spirito si riceve la pienezza dello spirito così parla la scrittura e così dobbiamo parlare noi la pentecoste non la riceviamo comprendiamo cosa vogliono dire i fratelli non è una terminologia corretta quindi ci atteniamo a quello che dicono le scritture ora leggiamo stiamo cercando il limite temporale per rispondere a certuni prima a noi stessi e poi per rispondere a quelli che cercano il limite temporale di questo dono leggiamo e comprendiamo altre cose leggendolo sotto questo punto di vista questi passaggi questa promessa del profeta Gioe dal versetto 17 qui e avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra sangue fuoco vapor di fumo il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato questo passaggio mi ha sempre fatto riflettere cioè perché Pietro l'ha citato completo così questo passaggio mi ha fatto sempre riflettere mentre all'inizio dice vedete e avverrà negli ultimi giorni quando sono iniziati questi ultimi giorni di cui parlava il profeta Gioele sono iniziati circa duemila anni fa quando venne il giorno della Pentecoste dopo che Gesù fu asceso in cielo gli ultimi giorni fratelli sono cominciati allora perché allora Pietro ha citato questo passo e ha detto questo è quello che ha detto il profeta Gioele questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele quindi gli ultimi giorni cominciarono a scorrere a decorrere dal giorno della Pentecoste voglio notare che questo passaggio termina termina parlando del giorno grande e glorioso ritorno del Signore io in tutto questo ci ho visto ci vedo che questa promessa è racchiusa nel periodo di tempo dagli ultimi giorni che sono iniziati il giorno della Pentecoste quando circa 120 hanno ricevuto per primi e cominciarono a parlare in altre lingue e ricevettero per primi il battesimo con lo Spirito Santo e poi continuando in Gioele tutti quei grandi segni che ci sono prima che venga il grande glorioso giorno che è il giorno del Signore considerando che Pietro ha detto che per quelli che ne chiamerà considerando il fatto che dopo che tornerà il Signore la Chiesa sarà rapita in cielo non ci sarà più bisogno di parlare in altre lingue capite bene che il termine è proprio come ha detto l'Apostolo Paolo nel capitolo mi sembra 13 dove parla che le lingue cesseranno quando la perfezione sarà venuta e la perfezione sarà venuta quando ritornerà il Signore quando il Signore tornerà sarà venuta la perfezione e quindi allora sì che le lingue cesseranno e qui anche l'Apostolo scusate l'Apostolo Pietro che citava il profeta Gioele ci dà questo indizio ci fa capire che quei tempi durano fino al giorno grande e glorioso del ritorno del Signore e Pietro lo cita per questo motivo perché dà con il profeta Gioele viene diciamo estesa la promessa a tutte le genti sopra ogni carne sui giudei e sui gentili ma viene indicato vedete quando cita negli ultimi giorni poi dà anche il termine che è il giorno grande e glorioso del Signore che prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore quindi questa promessa termina le parole vanno avanti e terminano parlando del ritorno del Signore e noi possiamo così mettendo insieme tutti questi passaggi capire comprendere bene che la promessa del battesimo con lo Spirito Santo non è assolutamente terminata ai giorni d'oggi ma terminerà solo ed esclusivamente nel momento in cui ritornerà il Signore solo allora questa promessa cesserà di adempiersi ma fino ad allora è ancora valida e noi cosa dobbiamo fare? Quello che noi dobbiamo fare ce lo dice Gesù ce lo dice Gesù al capitolo capitolo 11 capitolo 11 del Vangelo di Luca ci dice queste parole che parla della preghiera qui Gesù parla della preghiera esorta a domandare esorta ad avere fiducia in Dio fa capire diverse cose e fa capire anche fa comprendere chiaramente lo dice chiaramente che bisogna pregare Dio per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo capitolo 11 del Vangelo di Luca dal versetto leggiamo dal versetto 9 11 9 di Luca io altresì vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto poiché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a che picchia e chi è quel padre tra voi che se il figliolo gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano badate bene qui da questo ultimo passaggio il versetto 13 dice che dicendo il vostro padre celeste quindi ci sono dei figlioli che pregano il padre quindi il rapporto tra figliolo e padre è già instaurato questo significa che sta parlando di figlioli che sono già diventati credenti qui non si sta parlando di ricevere la salvezza qui si sta parlando che i figlioli del nostro padre celeste devono pregare e domandare di ricevere lo Spirito Santo qui si riferisce al battesimo con lo Spirito Santo capite perché il rapporto tra il padre e il figliolo è già instaurato tutto il discorso va visto in una certa maniera risponde agli antipentecostali che temono che pregando e chiedendo una cosa che per loro non è biblica si possa intromettere il diavolo e si possa ricevere un dono dal diavolo anziché da Dio ma scusate ma se c'è scritto che se noi siamo malvagi e diamo ai nostri figlioli cose buone il Dio che non è malvagio ai suoi figlioli potrà mai permettere che il diavolo si intrometta in mezzo su una richiesta particolare così e che possiamo ricevere degli scorpioni anziché quello che Dio ci ha promesso noi dobbiamo avere fiducia che Dio è buono altrimenti che facciamo crediamo che Dio è debole e non è buono che ci dà dei diavoli anziché darci il battesimo con lo spirito santo noi non possiamo credere in una tale cosa ci dobbiamo rifiutare di accettare questi discorsi insensati di questi antipentecostali perché le cose non stanno così noi abbiamo fiducia in Dio che quando ci mettiamo in preghiera con tutto il cuore nessuno si intromette se ne devono scappare tutti questi spiriti immondi non possono intromettersi perché in preghiera noi ci colleghiamo col Padre nostro celeste con il Dio vivente non si possono intromettere e altrimenti sarebbe tutto rovinato altrimenti con quale coraggio con quale speranza noi andremo a chiedere al Padre ma questi passaggi ce lo fanno capire questo vale per tutte le cose che noi domandiamo al Padre noi possiamo domandargli quello che vogliamo il Padre non ci darà una serpe non ci darà uno scorpione o una pietra al limite ci darà quello che che lui naturalmente ha stabilito di darci questo è chiaro non è che ci dà tutto quello che noi chiediamo ci dà quello che lui ha stabilito però nel contempo non ci dà non ci fa cadere addosso una cosa malvagia non permetterà al maligno di intromettersi questo potete essere sicuri fratelli questa è una cosa certa non c'è nessun dubbio altrimenti saremmo stati distrutti adesso che saremmo stati distrutti chiedendo una cosa ne riceviamo una malvagia no non è possibile è escluso dalle sacche scritture noi dobbiamo avere fiducia nelle sacche scritture nelle parole del nostro Signore Gesù Cristo egli non ha mentito quindi possiamo andare a Dio con piena fiducia senza alcun timore e domandare pregare il nostro Padre Celeste che ci battezzi con lo Spirito Santo che ci distribuisca i suoi doni spirituali che ci dia le sue guarigioni perché egli non ci dà scorpioni pietre o serpenti velenosi al limite rimaniamo malati al limite non riceviamo i doni spirituali ma non è che riceviamo in cambio di questi riceviamo delle cose malvagie dal diavolo e che fa si intromette il diavolo non può quando preghiamo noi con tutto il cuore il diavolo se ne sta lontano perché non può intervenire è una cosa particolare è una cosa potente può venire a darci fastidio può farci addormentare può darci può fare rumori attorno a noi attenzione questo si avviene ci squilla il cellulare ci squilla il citofono non ci cerca mai nessuno quando ti decidi di andare a pregare il Dio eccolo che si scatena di tutto si scatena di tutto squillano i cellulari suonano i campanelli scattano gli allarmi delle macchine fuori di tutto questo si perché il maligno cerca di disturbare da lontano però non può intromettersi nel canale che si instaura tra noi e il padre può darci fastidio può rallentarci in questa maniera ma non può intromettersi quel rapporto è tra noi e il padre non può essere interrotto spiritualmente può darci fastidio è chiaro può darci fastidio questo si ci prova perché vuole interrompere questa nostra comunione con il padre quindi fratelli questa mia esortazione di oggi era volta a farvi desiderare fortemente questo dodo perché così è scritto fratelli e così come parleremo della guarigione parleremo di altre cose che Dio ha stabilito per il suo popolo e così dobbiamo desiderare e pregare per ricevere quella potenza per essere testimoni più efficaci dell'Evangelo e di tutto quello che è collegato al servizio nella Chiesa nel servire Dio uomini e donne non ci sono distinzioni qua nel dono del battesimo con lo Spirito Santo non ci sono distinzioni per uomini e per donne quindi qui non ci sono differenze devono pregare desiderare ardentemente sia gli uomini che le donne questa è l'esortazione di oggi affinché preghiamo e domandiamo a Dio la potenza dello Spirito Santo che tanto ne abbiamo bisogno e ci fa solo del bene a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén